Estate, una bella stagione, una stagione bella quella che si apre in Abruzzo. L'assessore regionale Damario parla di una grande risposta da parte dei turisti italiani e anche di quelli stranieri. Devo dire che gli indicatori ci fanno pensare che sarà sicuramente un'estate da tutto esaurito. Devo dire che l'Abruzzo è stato oggetto di una grossa promozione territoriale, il cui apice è stato sicuramente la grande partenza del Giro d'Italia, ma che ci ha visto protagonista in tutte le fiere nazionali e internazionali. Devo dire che l'Abruzzo oggi è sicuramente più conosciuto di quando lo fosse qualche anno fa. Adesso la palla passa agli operatori perché per rendere una vacanza indimenticabile occorre la cortesia, occorre coccolare il turista, quindi la palla passa a mano agli operatori perché è evidente che le istituzioni hanno il compito di rendere visibile una regione, poi la palla passa agli operatori che devono rendere questa vacanza indimenticabile. Turismo locale, turismo nazionale, turismo internazionale, cosa? Il core business sicuramente sarà il turismo nazionale di oltre regioni, però abbiamo segnali buoni che ci pervengono sia dalla Germania che dall'Inghilterra, anche dalla Polonia addirittura, quindi ci aspettiamo sicuramente un ritorno degli stranieri, ma il core business sarà sicuramente rappresentato dal turismo nazionale. Già si può fare una previsione sulle prenotazioni? Ma guarda, i dati sulle prenotazioni a noi ci arrivano in ritardo, però io parlo quotidianamente con gli operatori, con gli albergatori, con i rappresentanti delle categorie e ci dicono che sarà una grande estate. Le mette più gettonate? Ma il core business del turismo abruzzese rimane ancora quello legato al mare, al turismo attrezzato per le famiglie, le spiagge, quindi parliamo del nord della regione, la costa terramana che poi ha avuto anche l'unbleme di bandiere blu e sicuramente questa è una cosa importante. Abbiamo numeri importanti anche per quanto riguarda tutto il settore del turismo esperienziale, quindi delle nostre montagne, dei nostri parchi nazionali, dei nostri borghi, della nostra gastronomia, insomma ci sono segnali importanti di tenuta per quello che è il turismo balneare e di forte crescita per quello che è il turismo esperienziale. Immagino la costa dei Trabocchi portata alla ribalta dal giro d'Italia, ci sarà molta curiosità? Sicuramente sì, quello è un lembo d'Abruzzo che forse fino a qualche anno fa era poco conosciuto, oggi ha avuto un'esposizione mediatica importante, c'è grande richiesta di costa dei Trabocchi, il prossimo passo sarà quello di infrastrutturare la costa dei Trabocchi che a livello ricettivo sconta la mancanza di posti letto per la grande richiesta che c'è oggi.